Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di dieci anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Una associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Grazie.